Ma io esisto o sono stata creata da Pamela Perricciolo? Grazie per la visione! Quest'ultima le racconta che finalmente ha trovato l'uomo della sua vita Marche Caltagirone Mostra con orgoglio i disegnini di Sebastian e Rebecca E la fede, Barbara sorpresa le dice Sembra una vera fede nuziale E lei risponde È una vera fede Ed è in quel momento, è quella domenica che la nostra vita è cambiata È proprio in quell'istante che abbiamo iniziato a vivere due vite parallele C'era la nostra e poi c'era quella di Pamela Prati e Marc Caltagirone Questo è solo l'inizio Perché, vedete Si sta scrivendo un pezzo di storia Io tra vent'anni, quando avrò dei figli Mi aspetterò che nei libri di storia Venga raccontata la faccenda di Prati Full Marc Caltagirone Eliana Michelasso Perché, vedete, noi pensavamo Che fossero tutte persone da contorno E invece no Hanno già firmato tutti per la seconda stagione Sono tutti personaggi importanti Principali Regular Come si dice nel gergo delle serie TV Presi dall'entusiasmo Tutti i programmi televisivi Invitano Pamela Prati E lei, con il suo mitico taxi Inizia a fare avanti e indietro tra uno studio e l'altro Vieni da me, Domenica Inn, Verissimo Tutti i programmi televisivi la vogliono Tutti la ospitano E lei ci racconta sempre la stessa storia Marc è un uomo meraviglioso Mi ama, mi ha cambiato Anzi, ne approfitto di questa telecamera per dirti Grazie, Marc Ma grazie, Ghecco Ma tappò Ed è proprio grazie ai giornalisti Che questa storia prende una piega completamente inaspettata Perché solleveranno talmente tanti dubbi Che a partire da ora Se qualcuno oserà presentarsi Senza mostrarmi la carta d'identità La tessera sanitaria e pure l'atto di nascita Per me non siete nessuno Siete un Marc Galtagirone qualsiasi Quando vi presentate a me Adesso mi dite il nome e cognome Mi tirate fuori la carta d'identità Me la fate vedere L'atto di nascita Ok? Quindi da lì parte questa soppopera Perché appunto si inizia ad ipotizzare Ma sto Marc Galtagirone esiste Ma chi è? Insomma le voci iniziano ad essere sempre più insistenti Sto Marc Galtagirone non esiste Ne parlano tutte le trasmissioni Ne parlano tutti i siti di gossip Ne parlano tutti i giornali Ne parliamo tutti L'otto maggio Pamela Prati e Marc Galtagirone non si sposano Perché la Prati sta male Oh gazz Ma non ci siamo neanche arrivati all'otto maggio Perché qualche giorno prima Tramite il sito BCF Arriva la notizia La Prati e Marc Galtagirone non si sposano più Ma dai Ma non l'avrei mai detto Ma come mai? Quello che fa specie È che in tutte le trasmissioni C'è sempre la manager Eliana Michelazzo La prima volta che si parlò di Pamela Prati Al live non è la D'Urso Insieme alla Michelazzo c'era anche Donna Pamela Donna Pamela Che questo nome mi mette un'ansia Che neanche quando mi si presenta un uomo davanti nudo Comunque Nella prima puntata Entrambe le agenti erano presenti A difendere la spada tratta Pamela Prati Perché Marc Galtagirone Esiste cazzo Dopo di ciò Dalla seconda puntata Sparita Pamela perricciolo Non pervenuta Ma dov'è? Non si è più vista da nessuna parte Ma vabbè Quelle sono cose che insomma Chi se ne frega Nel senso non vuole apparire Non vuole apparire Non vuole apparire Sa come mai Comunque Eliana ci racconta Che sì Sono andati a vedere la location C'era il monsignore Monsignore Nelle ultime due ospitate Di Pamela Prati Invece La showgirl Ha fatto quello che le riesce meglio Abbandonare gli studi Prima verissimo E poi a live non è la D'Urso Ma arriviamo a domenica 19 maggio Il giorno in cui Eliana Michelazzo decide di vuotare il sacco E dire È vero Mark Galtagirone non esiste Ma attenzione perché il colpo di scena è dietro l'angolo Ma non uno Due colpi di scena Il primo È che la Michelazzo Ci racconta anche Di essere sposata Da dieci anni Con un certo Simone Coppi Che non ha mai visto Ora dico io Con tutto il bene del mondo Anche se io volessi Far finta Di credere Alle minchiate Che ci stai raccontando Ma come faccio A credere Che tu sei sposata Da dieci anni Con uno Che non hai mai visto Alla domanda di Barbara Ma quindi tu Sono dieci anni Che non hai rapporti sessuali Lei risponde Sì Solo virtualmente Ma che cosa stai dicendo Solo virtualmente Dieci anni Avrai un braccio grosso Così Ci racconta i dettagli Dell'incontro Perché lei Questo Simone Coppi L'ha visto una volta sola Lui l'ha guardata E ha sorriso E da quel momento Lei si è sentita sposata Adesso poi Non mi venite a dire a me Quando dico Che sono sposata Con Laura Prepon Che sono una pazza Ok Perché anche a me La Prepon Mi ha sorriso Quando ci siamo viste Dal vivo Quindi Anche io Sono sposata Con Laura Prepon D'accordo Punto La confessione Di Eliana Michelazzo Apri un mondo A noi sconosciuto Cioè Vengono fuori Talmente tante cose Che ieri sera Mentre guardavo live Non è la dursa A un certo punto Abbiamo perso di vista Mark Caltagirone Ci siamo dimenticati Di Mark Caltagirone Per colpa di Simone Coppi Che poi saranno La stessa persona Ma poco importa Cioè Mark sarà anche offeso Dopo settimane e mesi Che si parla di lui Si è visto rubare La scena così Da sto pencopallino Di Simone Coppi Ma tappò Prima di arrivare Al colpo di scena finale Posso non parlare Del fatto Che Eliana Michelazzo E Barbara D'Urso Per un periodo Di tempo Sono state Cuginette Posso? Perché vi spiego Simone Coppi Ha un cugino Di nome Danny Coppi Che è stato fidanzato Con Barbara Ed Eliana e Barbara Si sentivano Tant'è che Eliana Chiamava Barbara Cuginetta Giustamente Eliana chiamava Barbara Cuginetta Poi adesso Sono anni Che frequenta Gli studi di Barbara Ma non l'è mai Passato per la mente Quando la incontrava Di dirle Guarda ma ti ricordi Quando ci scrivevamo Barbara ma perché Non mi riconosci Eravamo cuginette Tu e Dio Non ti ricordi Volevamo aprire Pure un salone Per fare le unghie Insieme Non fa una piega Questo Proprio Non fa una piega La verità È che questa storia Fa acqua Da tutte le parti Acqua e sapone Come quella cosa Che gli hanno fatto Trovare davanti casa Che in teoria Doveva essere acido Ma in realtà Si è scoperto Essere Acqua e sapone Blu le mille bolle Blu 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 le mille bolle Blu 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 Ma tutta po' La 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 Io sono combattuta Perché se da una parte Vorrei che tutto ciò Finisse Perché questa situazione Mi sta creando un'ansia Che veramente Non ve la posso spiegare Sto mettendo in discussione Qualsiasi cosa Tutte le persone Che fanno parte Della mia vita I miei genitori I miei amici Il mio cane La mia tartaruga Il mio pesce rosso Tutti Dall'altra parte Vorrei che questa storia Non finisse mai Perché la soppopera Più Più coinvolgente Più trash Più inaspettata Di sempre E a confermarlo L'ultimo colpo Di scena L'ha tirata fuori Ieri sera Da Gospia Eliana Michelazzo E donna Pamela Avevano Una relazione Ma ci credo Perché solo due Lesbiche Possono essere Dietro a tutto Questo delirio Solo due Lesbiche Psicopatiche Però vi assicuro Non siamo Tutte così No Sì No Sì No Non siamo Tutte così Giuro Sul mio padre Che è vivo Per fortuna Comunque La teoria Che le due Stessero insieme Sinceramente Io la sostengo Da un po' di tempo Perché Io la ramanzina Raccontata ieri sera Da Eliana Ci ho creduto Tipo meno Di zero Ci sono troppe cose Ci sono troppi buchi C'è la storia Fatta su instagram Per capodanno Cioè sei tu E Pamela Barbara ti chiede Chi l'ha postata poi Chi eravate Io Pamela Prati E donna Pamela In tre eravate Cioè A mele mele mu Esci Tu Una delle tre L'ha postata No Quindi In definitiva Io credo Realmente Che dietro A tutti gli account Fake Ci sia Pamela Perricciolo Con L'aiuto Di Eliana Michelazzo E anche perché La Michelazzo Ha detto di aver Denunciato Pamela Perricciolo Ma chi te crede La segui ancora Su instagram Cioè per dire Eliana Michelazzo È Credibile Quanto me Quando ogni Natale Prima di fare Coming out Diceva la mia famiglia L'anno prossimo L'anno prossimo Vi presento Il fidanzatino Uguale Credo che le due Abbiano agito insieme Che dietro la gestione Dei profili Ci sia più Donna Pamela Rispetto a Eliana Ma che comunque Eliana Si ha conoscenza Di tutto quanto Diciamo che Eliana è stata La più furba Perché ha deciso Di parlare Prima di tutti E quindi Di solito Chi confessa Per prima È quello che Passa un po' Meglio Nel senso Si è pentita Ma dai Adesso sta dicendo La verità Non ci credo Non ci credo Non ci credo Sono convinta Che questa Meravigliosa serie Sop opera Telenovelas Quello che cazzo è Andrà avanti Ancora Per settimane 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 Noi Stiamo qui Aspettiamo il mercoledì Come si aspetta Il giorno Di Natale E Barbara Contiamo su di te Mi raccomando Concludo Dicendovi Che se pensate Di avere Una vita di merda Ricordatevi Che Eliana Michelazzo È sposata Da dieci anni Con uno Che non ha mai visto Con cui non è mai Stata a letto Con cui non ha mai Fatto una cena Organizzava le vacanze E andava da sola E all'improvviso Vi sentirete Delle persone Normalissime Alla prossima puntata